Benvenuti in Solinga, terra baciata dal sole, benvenuti tra i nostri vigneti. Più che la mia voce mi sarebbe piaciuto farvi sentire il vento, l'aria che passa tra i nostri filari, il sole che ci riscalda in quest'ora del pomeriggio e mi piacerebbe farvi vedere il mio lavoro di questo periodo, ovvero la potatura, dove già pensiamo alla vendemmia che verrà. Ed è un lavoro molto bello perché comunque ti arricchisce anche spiritualmente. Siamo contornati da tanta vigna, il pensiero è quella che la devo potare tutta, ma la pianta stessa ti insegna la tranquillità nel scegliere i tagli giusti e trovare sotto te stesso. Grazie a tutti. Benvenuti nella cantina, dove dopo una giornata di lavoro il viticoltore stanco viene a bersi un bel bicchiere di vino, frutto del suo lavoro. Mi piacerebbe che foste tutti con me qua in cantina per sentire questi profumi, per vivere le sensazioni di un momento unico, perché dopo una giornata di lavoro ci meritiamo tutti un momento di pausa, riflettendo su cosa abbiamo fatto durante la giornata e godendoci l'attimo. Che vini facciamo noi? Facciamo vini particolari, al di fuori delle denominazioni. Ovvero i nostri vini non sono DOC, non sono IGT, non hanno bollini di garanzia o altro, perché la vera denominazione, la vera garanzia siamo noi. Noi che col nostro lavoro garantiamo di persona un prodotto che nasce dalla vigna. E cosa chiediamo noi alla vigna? Semplicemente il benessere, il riconoscere noi stessi prima di tutto, perché ognuno di noi ha un nome e un cognome. Non è una denominazione, è un qualcosa che ci può unire ad altre. Ognuno di noi è singolo e quindi merita una propria identità. Noi questa identità la chiamiamo Solinga col nome della collina e la chiamiamo Famiglia Pellegrini, perché siamo tutta la famiglia a lavorare, dando il nostro apporto calore alla terra e la terra ci ripaga col suo frutto. Noi dalla terra non chiediamo l'uva, noi cerchiamo e diamo benessere alla pianta che ci ripagherà con la sua frutta, che noi trasformeremo in vino. Il vino nasce in cantina, in campagna ci dà l'uva. Questo connubio è imprescindibile, il contadino con la terra e da lì nasce tutto. Quindi la vera denominazione è ecco perché siamo noi stessi, perché noi ci riflettiamo nel nostro lavoro, diventiamo vigna ogni giorno. E ogni giorno la vigna diventa uomo. Noi corriamo con i nostri pensieri e la vigna ci segue con le sue radici, dandoci questo nettare. Noi, non si 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 Grazie.